La città di Rende si prepara ad una nuova colata di cemento, secondo quanto sarebbe previsto dal nuovo piano strutturale comunale in corso di approvazione. La denuncia arriva dal movimento politico Insieme per Rende, le cui posizioni fanno riferimento a Sandro Principe. Dalle carte dei tecnici emerge l'aumento dell'indice fondiario e la conversione inedificabili di numerosi spazi destinati attualmente a verde pubblico o a servizi, nonostante l'esistenza di tanti appartamenti vuoti e sfitti. Con le varianti proposte, perché ancora siamo preliminari per fortuna, sono almeno nella zona, soltanto nella zona fra Quattromiglia e Roget ci sono almeno 450.000 metri cubi in più di abitazione residenziale. Anche sul terreno in cui sorge oggi il Marco Lorenzo si è aperto una diatriba. Il vecchio piano prevedeva il trasferimento dell'impianto sportivo per destinarne lo spazio a nuovi edifici. Adesso la previsione è quella di mantenere lì lo stadio, depauperando così il valore del suolo. Vogliono far tornare la vecchia destinazione d'uso, riducendo di colpo il valore da 10 milioni praticamente a zero. Infine, insieme per Rende lamenta la mancanza di una interlocuzione con la città capoluogo e la vicina Castro Libero nell'ottica dell'auspicata Unione dei Comuni. Questi parlano di città unica e poi fanno un piano in cui non c'è nessun'opera, non è previsto niente, non se ne parla proprio della conurbazione fra Rende e Cosenza e gli altri comuni. Salvatore Bruno per la Cineus24.